Schio, denunciato un 34enne per il reato di porto di armi e di oggetti atti ad offendere, trovato dai carabinieri insospettiti dal suo atteggiamento in via Milano con uno sfollagente retrattile della lunghezza di 45 centimetri, del cui possesso non ha fornito alcuna giustificazione plausibile. È scattata così la denuncia e l'arma è stata sequestrata. Durante i controlli i militari della compagnia di Schio hanno anche trovato 28 grammi di hashish e nei confronti di tre giovani dimoranti nei comuni di Schio e Santorso è scattata la segnalazione alla prefettura di Vicenza, quali assuntori di stupefacenti. Infine a Malo hanno controllato il conducente di un'autovettura trovandolo con la patente di guida sospesa e al termine degli accertamenti è stato sanzionato amministrativamente per la violazione al codice della strada di guida con patente sospesa a cui conseguirà la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida mentre l'autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.